Ciao ragazzi, per l'ennesima volta siamo qui a commentare una partita brutta, una partita sterile, una partita in cui non riusciamo a creare occasioni importanti lì davanti. Abbiamo un grosso problema in attacco e lo dico sinceramente, non è un problema soltanto di qualità degli attaccanti, ma è un problema tattico. Per me continua a essere un problema tattico, non è possibile vedere gli attaccanti così lontani dalla porta, vedere i cross per il solo Lucca in aria e basta, vedere che ad ogni occasione che parzialmente riusciamo a tentare di creare ci ritroviamo con uno barra due uomini dentro l'aria e basta. Cioè dobbiamo aumentare gli uomini lì davanti, se no non segni, siamo troppo pochi lì davanti, troppo pochi, poiché siano scarsi o meno, vabbè poi lo vedremo. Ma c'è una questione di che siamo in pochi, attacchiamo in pochi, cioè non è possibile vedere così vuota l'aria di rigore avversaria. Io questa cosa continuo a dire per me è un problema anche tattico. Poi che ci siano da comprare un attaccante e si spera che in questi giorni lo facciano perché francamente altrimenti è proprio una dichiarazione considerata anche il mal di pancia di Saraniti che ha già fatto capire che si è un po' stancato di stare in panchina, pensa un po' te, Saraniti che si è stancato di stare in panchina. Però vabbè, il mal di pancia di Saraniti, dico, cioè vi va a capire come anche la serenità all'interno dell'ambiente Palermo è un po', io vedo qua che diventa un po' giallo, un po' verde, che cazzo sta combinando, sta telecamera di merda, poi magari me lo fa sapere. Allora, che stavo dicendo, quindi il problema di Saraniti, ok, si lamenta, bla bla bla, ok, quindi bisogna comprare, io speravo Indy Gaudio ma è fallita anche quella, io ho questo mistero dei palermitani che non hanno voglia di tornare a Palermo, rimane a giocare, io posso capire che non vuoi tornare a Palermo perché è cambiato vita, ma, cioè, avere, come si dice, nemmeno la voglia, non avere nemmeno la voglia di giocare per la squadra della tua città è una cosa che mi rimane un po', comunque. A parte quello, quindi Di Gaudio non arriva, non riesco a capire se c'era un'alternativa Di Gaudio, non so se c'era quel ragazzo, adesso non mi ricordo più che ha preso il Catania, non mi ricordo più manco come si chiama, tra l'altro da quello che ho visto le statistiche non mi facesse impazzire, quindi forse è meglio così, non lo so, non lo conoscevo bene. Sta di fatto che una nota positiva e l'unica di questa partita è De Rose, questo centrocampista alla quale passavano tutti i palloni, è praticamente il nostro nuovo regista, un giocatore di personalità, ha già vinto il campionato con la Regina l'anno scorso, è capitano, quindi anche uno che ha una certa, come si dice, grinta, una certa personalità, e si è vista oggi in campo, però una cosa che mi fa pensare è che dall'inizio dell'anno tutti i nuovi acquisti ce li ritroviamo sempre titolari in campo. Ora, che sia una tattica, una decisione gestionale di Boscaia, che una volta disse che appunto non avendo partite amichevoli o alternative, quindi competizioni alternative come la Coppa Italia, non può provare il giocatore e allora li butta dentro immediatamente. Però, a parer mio, buttare dentro i titolari in questa maniera qua è un segno evidente di come la nostra squadra titolare non esista. Cioè noi non abbiamo una squadra titolare perché evidentemente non c'è un 11 che comincia a pieno, e quindi questo mi preoccupa, questo mi preoccupa. De Rose, bene, così sembra un buon acquisto, ma il fatto che venga buttato subito dentro, come tutti gli altri a inizio anno venivano buttati dentro, subito, mi fa pensare che non ci sia un'identità, non ci sia un'idea chiara di quella che è la nostra squadra titolare. E per me al 30 di gennaio questa cosa è un po' grave, è un po' grave. Una cosa che vorrei notare, fra l'altro, vabbè ragazzi, qui nella partita c'è poco radite, partita noiosa, pochissime occasioni di gol, Palermo che ha dominato la partita, dominato nel senso che ha tenuto il possesso palla, non ha rischiato grandi cose a parte nella fase finale, in cui il potenza è venuto un po' fuori, però non è che ci sono stati grandissime occasioni né da una parte né dall'altra, però il Palermo tendenzialmente ha tenuto in mano la partita, questo vi lo dobbiamo dire, ma non attacchiamo. Questo è il punto della partita, perché ragazzi, ad entrarsi dentro una partita del genere non ha senso, in questo momento il Palermo ha dei problemi che deve risolvere. Una cosa che vorrei dire di questa partita, ma non solo di questa, ma anche delle precedenti, vorrei capire una cosa, ma com'è possibile che di partita in partita aumenta, in maniera incredibile il numero di gente accreditata che sentiamo all'interno dello stadio? Se ci fate caso c'è sempre più gente, gente sempre più urla, si sentono sempre più persone che urlano, che incitano la squadra, ma com'è possibile che aumentino tutta questa gente accreditata? Ma quanta gente accreditata c'è là dentro? Mi è venuto sto dubbio... Anche la settimana scorsa a Palermo c'era una che gridava in maniera impressionante, c'era anche una presenza femminile allo stadio che urlavano in maniera incredibile a incitare la squadra nei momenti del bisogno, meno male, almeno c'è un po' più di cose. Però comunque al dia di quello c'è da dire questo su questa partita, c'è da dire la preoccupante sterilità, la crisi continua, quindi non vinciamo ancora, rimaniamo lì fermi, infossilizzati, ci sta superando anche la casertana che viene da quattro vittorie consecutive, ci sta superando tra poco, quindi insomma direi che a questo punto, cosa aspettarsi? Cosa aspettarsi? Qualcosa dal mercato? Non lo so, qualche rivoluzione tattica? Non lo so, a me sembra che Boscai è sempre convinto, cioè per esempio Rauti, per i miei gusti gioca troppo lontano dalla porta, troppo lontano dalla porta Rauti, assolutamente giochiamo con pochi attaccanti, Valente e Canutè sono praticamente due esterni, non li riesco a vedere come attaccanti, perché poi comunque giocano troppo larghi, cioè ragazzi, non è possibile, ho già detto questo, ragazzi, c'è bisogno di più presenza in attacco, più presenza in attacco, Silipo per l'ennesima volta non gioca, speriamo di recuperare l'Amici, che è almeno un'altra figura importante in questa squadra, che stava veramente dando un contributo veramente determinante, ma anche lo stesso Marconi in difesa, però comunque al di là di questo, la difesa nonostante le mancanze oggi non è che abbia rischiato tantissimo, però contro la peggior difesa del campionato ci aspettavamo sicuramente qualcosa, noi abbiamo fatto zero gol alla peggior difesa del campionato, quindi ragazzi, un sabato amaro, un sabato amaro, niente, la chiudo qui, non so se avevo segnato qualcos'altro da dire, no, non c'era molto altro, più che altro, ho notato anche a volte dei momenti di disattenzione durante la partita, palle perse, palle buttate via così, passaggi sbagliati, un po' di sufficienza, non lo so ragazzi, lui dice che vuole vedere il Palermo e giocare col sangue agli occhi, ma vabbè.